Un saluto dal Tg della Mobilità, lunedì 1 maggio dalle 15 a mezzanotte torna l'appuntamento con il concertone a San Giovanni, dalle prime ore della mattina sarà delimitata un'area di sicurezza compresa tra Piazzale Appio, Viale Carlo Felice, Via Conte Rosso, Via Ludovico di Savoia, Via Fontana, Piazza San Giovanni e Di Porta San Giovanni. Dalle prime ore del mattino saranno deviate 11 linee della zona, per consentire lavori di pulizia saranno deviate anche 4 linee notturne. La stazione San Giovanni delle metro A e C nel corso della manifestazione potrebbe essere temporaneamente chiusa, proprio in occasione del concerto il servizio delle metropolitane A, B, B1 e C sarà prolungato sino all'1.30. Sospesi i lavori serali sulla linea A, che quindi resterà aperta. Per bus e tram, normale servizio dei giorni festivi. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.